Tra poco Sul canale 17 di Fano TV L'informazione locale Prima vittima del coronavirus nelle Marche Si tratta di un anziano di 88 anni Con patologia pregressa E' deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano Salgono a 38 i contagi nelle Marche Due anche nella provincia di Ancona In quarantena 65 operatori sanitari 35 sono medici Gli altri infermieri La giunta regionale delle Marche Ha stanziato oggi un milione di euro aggiuntivo Per le spese extra affrontate dalle strutture sanitarie Per l'emergenza coronavirus In arrivo dalla protezione civile 400.000 tra mascherine e altri presidi A Monteporzio un insegnante di scuola Trovato positivo al coronavirus Una classe intera di studenti Finisce in quarantena Il PD lancia Mangialardi Come successore di Ceriscioli Il sindaco di Senigallia Tra poco in diretta Su Fano TV A primo cittadino Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia Con Marco Ferri Benvenuti a questa edizione del telegiornale Dunque prima vittima del coronavirus nelle Marche Si tratta di un anziano di 88 anni Che è deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano Era stato ricoverato il 24 febbraio scorso Con febbre alta e difficoltà respiratorie Ed era risultato positivo al tampone Nelle Marche si registra il primo decesso legato al coronavirus Ad anninciarlo questa mattina attraverso la sua pagina social Lo stesso presidente della regione Luca Ceriscioli La prima vittima del coronavirus delle Marche Dice è un anziano di 88 anni Con patologie pregresse Deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce di Fano Era stato ricoverato il 24 febbraio Con febbre alta e difficoltà respiratorie Ed era risultato positivo al tampone Esprimo vicinanza alla famiglia e a tutti i suoi quali Si legge Continuiamo a lavorare per fronteggiare l'emergenza Con massimo impegno La situazione nelle Marche è la seguente L'ultimo bollettino del Gore Se messo alle 20 e 30 di ieri Parla di 35 tamponi positivi nelle Marche Di cui ben 33 nella sola provincia di Pesero Urbino E 2 nell'Anconetano Con 7 ricoveri in terapia intensiva E 9 ricoverati al di fuori della terapia intensiva Le persone in quarantena poi sono salite a 230 Tra cui anche diversi medici ed infermieri Venuti a contatto con le persone contagiate Nelle prime ore della diffusione del virus In queste ore le autorità sanitarie locali Anche stanno operando attraverso una riorganizzazione interna Accorpando reparti e convogliando i ricoverati Verso un'unica struttura Per poter recuperare nuovi spazi o disponibilità Per terapie intensive Attingendo anche maestranze al di fuori del comprensorio In modo da fronteggiare al meglio Ogni evenienza e necessità possibile Dettata dall'evoluzione della propagazione del virus Quella che è appena iniziata È una settimana decisiva Per capire se l'epidemia del coronavirus in Italia Andrà verso una curva di tipo esponenziale Ossio verso una crescita incontrollata Oppure se comincerà a mostrare i primi segni di rallentamento In questa fase è comunque cruciale Spingere al massimo le misure di contenimento Lo indicano i modelli matematici elaborati Dal gruppo del fisico teorico Paolo Castorina Della sezione di Catania Dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare E dell'Università di Catania In attesa di essere presto pubblicati Su una rivista scientifica internazionale Allora c'è un aggiornamento che è arrivato In questi minuti Non abbiamo fatto in tempo a prepararvi i cartelli Dunque ve li leggo un po' così come sono arrivati Allora intanto parliamo subito Di 24 campioni analizzati questa mattina E tre di questi provenienti dalla provincia di Pesaro Urbino Sono positivi In lavorazione ci sono altri 30 campioni I cui risultati arriveranno in tarda serata Sono stati diffusi anche questi dal presidente Ceriscioli Nelle Marche tra quelli che ancora non hanno fatto il test Sono in isolamento domiciliare fiduciario 233 persone Sette con sintomi E 226 asintomatici Tra cui 65 operatori sanitari Divisi in 35 medici E il resto infermieri Comprese alcuni medici di medicina generale E operatori del 118 Al momento i pazienti in terapia intensiva Sono ricoverati uno per ogni struttura A Marche Nord Ancona Fermo San Benedetto Civitanova E Urbino I 17 ricoverati in malattie infettive Sono a Marche Nord In totale 11 5 ad Ancona E uno a Fermo L'età media delle persone infettate 8 donne e 27 uomini È di 65 anni Complessivamente sono disponibili 114 posti letto in rianimazione E 59 nei reparti di malattie infettive Sono numeri che sono stati dati anche durante la conferenza stampa di oggi pomeriggio A Ancona Palazzo Raffaello Dal presidente della regione Luca Ceriscioli In una conferenza nella quale ha fatto Ha voluto fare il punto della situazione Allora sentiamo tutti i particolari Nel prossimo servizio curato da Francesco Salvago Verrà dedicato un reparto di terapia intensiva Per i pazienti che versano in gravi condizioni Sono le parole del presidente della regione Marche In apertura della conferenza stampa per gli aggiornamenti della situazione coronavirus Dopo la prima vittima delle Marche Un 88enne di Fano Deceduto questa mattina all'ospedale Santa Croce Sono 34 i casi registrati Di cui 6 in terapia intensiva e 11 in isolamento domiciliare 17 nei reparti di malattie infettive Ad Ancona è ricoverata una persona in terapia intensiva E una nel reparto di malattie infettive Ceriscioli ha affermato che c'è un forte interesse per le attività di prevenzione Sono stati stanziati un milione di euro per i presidi E ha annunciato anche un rallentamento dell'attività programmata Per fronteggiare l'emergenza In modo da liberare medici e infermieri Nelle osservazioni presentate al governo Ceriscioli aveva chiesto misure più forti In tutte le regioni Ma il governo dice Ha preferito limitare con legge la provincia di Pesaro Urbino Togliendo di fatto il potere di ordinanza su questa materia alle regioni Il quadro si è fatto importante Avete visto i numeri che sono cresciuti fortemente Questo ha comportato anche le prime sistemazioni Utilizzo diverso degli spazi che abbiamo oggi Anche una riorganizzazione di attività sanitarie Si è fatto un salto di qualità anche nella reazione Avere sei persone in terapia intensiva che devono essere lasciate isolate Non è banale Immaginando che questo numero possa anche crescere Significherà anche qui fare scelte di riorganizzazione Perché i numeri isolati sono in terapia intensiva pochi posti E servirà invece a organizzare le cose in maniera diversa E in questo momento per noi il doppio binario È quello di continuare a spingere sulle misure di prevenzione Perché leggiamo oggi anche dall'altra parte Che è la risposta sanitaria Più prevenzione possibile Più rallentamento possibile del contagio Significa anche poter gestire al meglio La risposta sanitaria E poterla mano a mano proporzionare a quello che serve Allora come avete sentito e avete immaginato Insomma i numeri sono in evoluzione Sono in continua modifica E dunque abbiamo deciso come redazione Di utilizzare l'applicazione Telegram Per coloro che vogliono essere aggiornati in tempo reale Dunque vi invitiamo a scaricare l'applicazione E a unirvi al nostro canale Basta cercare Occhio alla Notizia E vi iscrivete E lì diamo tutte le informazioni Man mano che le riceviamo Le aggiorniamo in tempo reale Tutti si chiedono se la provincia di Peso Urbino È zona rossa La risposta è no La provincia non è zona rossa È zona gialla Ed è stata inserita nel decreto Firmato ieri dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte Allora vediamo in che cosa consiste E quali sono le restrizioni Per chi risiede appunto Nella provincia di Pesero e Urbino Da oggi la provincia di Peso Urbino È zona gialla Assieme alla provincia di Savona Significa che per disposizione ministeriale La provincia rientra nei territori Dove si applicano le misure più forti In maniera di contenimento Della diffusione del virus Pertanto fino all'8 di marzo Compreso Sospensione dei servizi educativi Per infanzia E delle attività didattiche Nelle scuole di ogni ordine e grado Nonché della frequenza alle attività scolastiche Di formazione superiore Comprese le università Ferma in ogni caso La disponibilità di svolgimento Di attività formative a distanza Sospensione anche degli eventi Delle competizioni sportive In ogni ordine e disciplina In luoghi pubblici o privati Resta consentito lo svolgimento Delle sedute di allenamento All'interno però di impianti sportivi Utilizzati a porte chiuse È fatto di vieto anche di trasferta Dei tifosi residenti nella provincia Per partecipare ad eventi E competizioni sportive Che si svolgono Nelle restanti regioni e province Sospensione anche di tutte Le manifestazioni di carattere Culturale e ludico Comprese quelle cinematografiche Teatrali A tal proposito L'AMAT ha annunciato La sospensione delle attività Di spettacolo Nella provincia di Peso Urbino Fino a domenica 8 marzo Inclusa Per cui sono rinviati Al momento e a data da definire Gli appuntamenti teatrali Gestiti dall'associazione Gli uffici dell'AMAT Stanno lavorando Per il recupero Degli spettacoli Le nuove date Saranno comunicate Appena possibile Per quanto riguarda I luoghi di culto I vescovi della metropolia Comunicano che Sono sospese Le celebrazioni Delle messe Festive e feriali Fino all'8 marzo compreso I luoghi di culto Comunque rimangono aperti A condizioni da adottare Misure adeguate Per evitare assembramenti Per i funerali si suggerisce Di limitarsi al rito Delle esequie Nella forma breve Con parenti stretti E possibilmente Che si celebrino Al cimitero Le benedizioni pasquali Saranno fatte Tenendo conto Delle misure di sicurezza Previste dall'ordinanza Anche le attività pastorali Sono sospese Fino alla durata Dell'ordinanza E' opportuno Mettere fuori Dalle chiese Consigliano i vescovi Un avviso Relativo ai punti Sopracitati Apertura al pubblico Dei musei E degli altri istituti E luoghi della cultura A condizione che questi Assicurino La modalità Di fruizione Contingentata Quindi si entrerà A scaglioni I matrimoni civili Se eventualmente In programma In questo periodo Verranno celebrati A Fano Fanno sapere Dal comune Che l'accesso Sarà consentito Però ad un numero Tale Di partecipanti In modo da rispettare Per ciascuno di loro La distanza di sicurezza Ristoranti, bar e pub Aperti A condizione però Che il servizio Sia espletato Per i soli posti A sedere E tenendo conto Delle dimensioni E delle caratteristiche Dei locali Gli avventori Devono essere messi Nelle condizioni Di rispettare La distanza Tra loro Di almeno un metro Anche le attività Commerciali diverse Dalla ristorazione Avranno delle disposizioni Da seguire Possono aprire Soltanto Con un accesso Contingentato O comunque Da evitare Anche qui Assembramenti di persone Tenuto anche Delle dimensioni E delle caratteristiche Dei locali Anche in questo caso Da garantire Ai frequentatori La possibilità Di rispettare La fatidica distanza Di un metro Tra i visitatori Seguì dunque Le regole Da rispettare Nel comune Di Monteporzio Gli alunni Della terza F Dell'istituto Comprensivo Fermi Sono stati messi In quarantena Dall'Asur Uno degli insegnanti Infatti È risultato positivo Al tampone Del coronavirus Abbiamo sentito Al telefono Il sindaco Giovanni Breccia Tenevo intanto A specificare Che non si tratta Di un concittadino Nel senso Che è un insegnante Che insegna Scuola media Di Monteporzio Ma Non è di Monteporzio Tra l'altro La persona in questione Risulta Completamente Priva di sintomi Quindi Ecco Non ha Al momento Ad oggi Nessuna Problematica Chiaramente Ha fatto lezione Nel nostro plesso Nella giornata Di lunedì 24 Quindi La classe A cui è entrato In contatto È stato Suggerito Dall'Asur Una condizione Di quarantena Volontaria E poi I prossimi giorni Ecco Vedremo Se ci sono Se ci sono Eventuali Evoluzioni Al momento La situazione Rimane Insomma Questa Senza Null'altro Da dover Segnalale Tra l'altro Si sono anche Sparse Delle voci Alcune volte Incontrollate Di tamponi Effettuati Ai ragazzi Tamponi Effettuati Addirittura A dirigente Scolastica Ma nulla Di tutto ciò È avvenuto In realtà Perché In assenza Di sintomi L'Asur Non procede A nessun tipo Di tampone Se non Un controllo Diciamo Da remoto Delle condizioni Di salute Se soprattutto Eventualmente Qualcosa Dovesse cambiare Sì Sindaco Quanti Alunni E quante persone Adulte Sono state Così Coinvolte Nella quarantena Gli alunni Della classe In questione Sono 23 E poi forse Uno o due persone In realtà In quel momento Neanche erano presenti Quindi consideriamo 23 ragazzi E Qualche docente Che è entrato In contatto Con Con Poi Lo stesso docente Risultato positivo Quindi in realtà Si tratta Ecco Di Poche persone Che Che fanno Insomma Capo All' All'istituto Di Monteportio Sì E anche Che i familiari Di questi alunni Sono coinvolti Nella quarantena O No In realtà Si tratta Solo Dei contatti Diretti Sì Solo Dei contatti Diretti Chiaramente Se c'è Una Una Volontà Diciamo Di stare Ecco Riguardati E di non Andare In posti Appollati Eccetera Anche da parte Dei familiari Questo Non No È Assolutamente Apprezzabile Però Non è Una richiesta Da parte All'uso L'emergenza Sanitaria In atto Sta creando Problemi Enormi Anche All'economia Locale Oggi È intervenuto Il presidente Del Provinciale Del Confcommercio Amerigo Varotti Che ha usato Toni pesanti Nei confronti Del governo Nelle misure Annunciate A parziale Sostegno Delle imprese Non figurano Né i ristoranti Né i bar E tantomeno I locali Di intrattenimento È una follia È una grave Dimenticanza O la dimostrazione Che la politica Non sa leggere La realtà Da quando È scopiata In Italia L'emergenza Il settore Ha avuto Oltre 2 miliardi Di danni E perso 20 mila Posti di lavoro Nella provincia Di Pesero Urbino Le disdette Hanno creato Una situazione Drammatica Non prevedere Per questi locali Gli stessi aiuti Che si ipotizzano Per le altre Categorie turistiche È una stupidaggine Una follia Che può solo Portare Ad una aperta Ribellione Di tutta La categoria La Regione Marche Conclude Amerigo Varotti Della Confcommercio Dopo i provvedimenti Reiterati Dovrà mettere Mano alla borsa Diversamente La protesta Sarà dura Ma quali sono Gli accorgimenti Più elementari Ma utili Per evitare Il più possibile Il contagio Tra quelli Più noti C'è sicuramente La prassi Di lavarsi Come abbiamo detto Molti l'hanno messo Appunto Al primo posto Lavarsi bene le mani Che sembra una cosa banale Ma in realtà Non lo è affatto Allora nel prossimo servizio Vi mostriamo Come farlo Nel modo corretto È in cima La lista del decalogo Emanato dal Ministero Della Salute Per le regole Da seguire Per evitare Il contagio Da coronavirus Al punto 1 Si legge Lavarsi spesso Le mani Con acqua e sapone O con gel A base alcolica Ma come si lavano In modo corretto Le mani Per assicurarsi Una perfetta Igenizzazione Non certo Nel modo Frettoloso e rapido A cui siamo stati Abituati fino ad oggi Nella nostra quotidianità Anche qui però ci viene incontro Il Ministero della Salute Che descrive La procedura corretta Da eseguire Presa naturalmente In prestito Da quella che eseguono Gli operatori sanitari Innanzitutto Lo sfregamento E l'operazione Non deve durare Meno di 40 secondi Se poi arriviamo A 60 Ancora meglio Con il gel A base alcolica Invece Saranno sufficienti Almeno 30 secondi Essendoci qui Un disinfettante Si parte Bagnandosi Le mani sotto il rubinetto Si prende un po' Di sapone Dal dispenser E poi si inizia Sfregando I palmi delle mani Poi si procede Ai dorsi Di entrambe Le mani Dopodiché Negli spazi Tra le dita Anche i polpastrelli Devono ricevere Un'adeguata attenzione Strofinandoli Tra loro Così come anche I pollici Opponenti Verranno frizionati Uno per uno Infine Anche le unghie Dove lo sporco E quindi i batteri Si annidano Più con facilità Vanno sfregate In modo circolare Contro il palmo Della mano Per ultimo Dopo essersi Risciacquati Le mani Sotto l'acqua Con le salviette Chiudete Il rubinetto Con queste Prima di buttarlo Nel cestino A questo punto Avremo Le nostre mani Ben pulite E adesso la cronaca Uno schianto La scorsa notte A Tavernelle Un'auto È finita Contro un albero Feriti Quattro giovani A bordo Di età compresa Tra i 20 e i 26 anni Trasportati Al torretto di Ancona Il più grave Un 21enne Con il bacino fratturato Che è stato ricoverato In rinanimazione L'incidente Si è verificato Lungo la Flaminia Passata dopo Da poco Luna di notte L'auto Una Fiat Punto Condotta proprio Dal 21enne Viaggiava in direzione Fossombrone Fano Ed è uscita Fuoristrada Ed è andata A schiantarsi Contro un albero Al lato della carreggiata Ancora ad accertare Da parte dei carabinieri Di Colli al Metauro Le cause Precise Di questo incidente Nessun altro mezzo È rimasto coinvolto Sul posto Il 118 I vigili del fuoco Che hanno operato Per estrarre i feriti Dall'abitacolo Durante le operazioni Il traffico Sulla Flaminia È stato chiuso Al traffico E prima di salutarci C'è un'altra notizia Che invece riguarda Pesaro Una coppia Una coppia di quarantenni Dopo anni Di tranquilla convivenza Ieri sera Ha fatto Accorrere I carabinieri Per urla Ma anche schiaffi Volo di piatti Insulti Che i due Si sono scambiati Per motivi di gelosia All'arrivo dei militari Hanno manifestato Anche l'intenzione Di querelarsi A vicenda Solo che i carabinieri Non si sono accontentati Di questo Ma hanno voluto Accertare Se l'uomo Avesse delle armi In casa E così Hanno fatto un controllo Ed è risultato Che l'arma C'era Infatti L'uomo deteneva Regolarmente Una pistola E delle munizioni Essendo appassionato Di tiro Tanto da essere iscritto Al poligono Per esercitarsi E per scongiurare Una tragica evoluzione Di quanto appena accaduto Hanno scritto In una nota I militari L'arma E le munizioni Sono state ritirate A scopo Cautelativo Il telegiornale È finito Ma tra poco Restate con noi Perché C'è una puntata Interessantissima Di primo cittadino Con il sindaco Di Senigallia Sindaco uscente Maurizio Mangialardi Che come Ormai ben sapete È stato Designato E scelto Dal Partito Democratico Come successore Di Cericiole La guida Del Partito Democratico Chiaramente Ancora La strada Per lui È lunga Ma Intanto Il PD Ha trovato Il suo Il suo uomo Adesso bisognerà Trovare invece L'unità Insieme Alle liste civiche E alla coalizione Di questo e di altro Comunque si parlerà Nel corso di primo cittadino Che andrà in onda Dopo la pubblicità E le previsioni del tempo Noi invece ci vediamo Domani mattina Alle sette Con la rassegna stampa Occhi e giornali Arrivederci E Attrao